buona ragazzi come vedete è veramente molto chic ma poi colore del mare adesso ve lo faccio vedere di una libidine infatti dopo non dico che vada male però almeno i piedi nell'acqua salata non so se mi spiego riuscite a capire il colore del mare adesso facciamo una bella carellata interna che vi faccio vedere all'interno di questa spiaggia come scicca bello ragazzi ma questo è da venire assolutamente a visitare molto chic guardate che classe piccolina ma ben fatta non Non, per un parare. Non, non, non. No, non, non, non. Non, non, non. Non, non, non C'est ce que je dis. C'est très bien ce que je dis. 28, 6, 24 le 1ere. Mais, ça ne change pas, ça ne change pas. C'est simplement parce que... Je ne te mets pas en cause, voilà, du tout. Mais simplement... 28, 6... Si, si, il y a de quoi. Ok, c'est la guerre. C'est comme un Israël. Un Israël, il y a un 2, 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 comme ça. Tu m'en as parlé, mais moi, j'ai dit... Tu m'en as parlé, mais moi, j'ai dit... Ils terminent leur bail, leurs 3 ans. J'ai dit ça à celui qui m'a dit. Donc à toi, je n'ai jamais parlé à Julien. J'ai dit ça, mais tu ne m'as pas compris, admettons. Admettons que tu ne m'as pas compris. Ah non, c'est pas du tout. Je suis sous-collable. Je suis sous-collable. Heureusement, on peut rester parce qu'il y a un peu de vent. Un minimum, mais... Mais le Mistral a vachement baissé là. Dans le jardin, sur la terrasse avec eux. Même dans le jardin. Voilà, adesso abbiamo ordinato qu'il y a quelque chose da mangiare. Già l'ho fatto, però... A me piace registrare, qui, je vais faire les pieds, dans l'eau. Dans l'eau de mer. Dans l'eau de mer. Dans l'eau de mer. Dans l'eau colorée. Et c'est toujours comme ça. qui, eh? Non è che cambia qu'on venne dans la période estive, dove ci sono tutti i mao-mau. Qua un po' meno, perché mai i mao-mau, qua... Non è che ci possono stare, questo è considerato che costa cifre astronomiche. Gesù Cristo santo. Bella fresca. Allora ragazzi, il mare, come lo amo! Ti adoro! Mi relax quando fanno fanno, però... garantisco che... no, fin quando stai al sole puoi andare, però il bagno non ho assolutamente. Almeno io. mi tolgo con i piedi nell'acqua. Diciamo che stava... ehm... due minuti di abitui. Però... al momento no. Quello che voi vedete non è munnez, eh? Questo è San Tropez. San Tropez è questo. Non immaginate che sia spazzatura. Questo è San Tropez. La naturalità è tutto naturale. Una cosa bella di San Tropez è questa. proprio la naturalità. E poi vedete i mega yacht di milioni, di miliardi, di stramiliardi di euro. Oppure vedete cose tipo del genere, tipo spiagge così, che costavano veramente una cifra astronomica. E magari affittare poi un bungalow di quello... neanche... cioè... e non vi posso dire neanche il prezzo, perché... sinceramente non lo so. O François non me l'ha detto. Mi ha detto semplicemente costano una cifra astronomica. però eh... dovete immaginare che costeranno proprio cifre che... che difficilmente ti puoi permettere. Ed è qua avete anche la fortuna a volte di trovare... Rolex... come è capitato a me... non un Rolex... ma bensì... ho trovato un bello orologio d'oro... che abbiamo venduto all'asta... quindi avete anche la fortuna a trovare gioielli. Adesso vi faccio vedere cosa mangiamo e poi dopo al limite... andiamo a visitare un po' le cabane là... e noi maestate ci provare... c'è un... medaglion de veau e sabine... ah medaglion de veau... della viande... terne di yusuf... e craselè di pomme di terne... una bella salata per lino... con lino... con lino artiglia... ho la mette... c'è già misi... e vediamo un grande bolo di chili... è molto bello... è per mettere la frederette... la piccola... la piccola... c'è stata interessante... che parlare con Dominique... con chi? con chi? con la piccola... 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 chi ama la piccola? Dominique... la piccola... con la piccola... la piccola... ah è sì... non 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 non... non non non... tu exagères... non... non non... non non... mi piace... Il calombo è tutto. Mamma. Ti vuole un po' di babà? Ah non. Vuole un babà? Non, non, non Paolo. Vuoi che vuoi manchiere. Uai, sei troppo grande. È troppo grande. È troppo grande la presa. Allora ragazzi, andiamo a vedere un po' questo... Village Thompson. Approfitto perché vedrete pure la macchina. Vabbè che non succede niente qua, però. Approfittiamo adesso. Scusate. Noi, maestatis pluralis. Scusate. Uh. Andiamo a vedere qua. Sono un d'or. No, maestatis. Sembra l'or. Sì, è stato un guardiano. No, maestatis. No, maestatis. No, maestatis. No, maestatis. No, maestatis. No, maestatis. Una figata, eh? Ragazzi? È una mano del giro. E' un picciclentone. bellissimo onestamente mi sono anche voluto alzare un po' perché quando arrivare all'ombra guardate come sono bella sono proprio sì però sono troppo coperti secondo me non so però sono bella guardate che là di l'angolo soppace piaccia vanno so bella and then a shikkeria no 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 andate che la tengo proprio la veranda in coppa di spiaggia bella bella troppo bella praticamente poi sono dotate di tutti i compote caratteristica e' una specie di un bar e' un bar bella ro casai ah quindi inizia da qua no ma andate da qua inizia proprio da stanno proprio una marea di queste casse proprio caratteristico proprio bello casai 222 ah ragazzi torniamo alla spiaglia vi ho fatto vedere un po' l'interno di questo straordinario posto inaffittabile delle persone normali veramente accesso molto 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 costoso però bello proprio cioè caratteristica bello mi piace proprio hard ed è enorme 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 poi ci sono qua dentro ci sono tutte le cose quindi sauna piscine bagno turco tutte le cose per i massaggi sono tutte quante arredate con televisioni bagni logicamente solite cose complimenti allora ritorniamo a Manoa Beach un po' bravo mi piace mi piace picchino picchino è buon uso per te una volta qua so la canna bella un po' più pazza